aquilotto due marce non so se l'avete mai visto anche aquilotto due marce è sto telefono che si piega madonna cioè di solito sto motore a rullo eh ma vedete un po cioè due marce e le marce sono qua dentro nel nel carter del motore con la sua candela originale ancora degli anni 50 va conservato che è una bellezza bianchi aquilotto modello dell'europa due marce mia che cromatore che mamma mia è in marcia anche mi sa va ah c'è ancora il cosa della miscela miscela 2 per cento che figata questo con le ruote da 26 tra l'altro chissà se partirà c'è ancora il cosettino che copre gas rapido più conservato di così non ce n'è con la gemmina dietro la corona particolare dietro com'è tiranti il motore il cambio è tutto lì eccola cambia il manubrio tra l'altro che è qua uno e due c'è anche la folle ecco dovrebbe partire fermo da 50 anni ma dovrebbe partire chi lo sa c'è 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 più la vernice perfetta chi lo sa se va bianchi aquilotto modello europa mamma mia che conservazione ma pompa bianchi eccolo qua ciao